Con le vostre proposte quale pubblico pensi di soddisfare meglio, quello italiano o quello internazionale? Sicuramente quello internazionale perché è quello più attento alle tendenze italiane rispetto agli italiani stessi, quindi sicuramente il pubblico internazionale è quello che ci interessa di più, quello che acquista anche meglio. Quali sono le novità che presentate qui a Si? Le novità sono il modello Sun, soprattutto in questa variante di colore, che è il color Candy, chiamato Candy proprio perché con questa lastra riporta un po' all'idea delle caramelle ed è data da un incollaggio di un nero con appunto nella parte bassa del frontale questo effetto Candy. Questa è la novità presentata qui al Si. Rispetto agli altri modelli invece quale è il più venduto qui al Si? Inaspettatamente il Panarea, chiamato Panarea proprio in omaggio ad una delle sette Isole Olie, la nostra prima collezione ed è appunto questo rettangolare molto ampio che evidentemente calza molto bene, sta piacendo molto e quindi è il più venduto di questo Si. Bravissimi, in bocca al lupo e buon farisalone. Crepi il lupo e grazie.